Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo video. Mentre stavo giocando con la mia Nintendo Switch, più precisamente a Monster Hunter Generation Ultimate col mio fedele Pro Controller, mi è venuta in mente una cosa. Tra tutti gli accessori che ho recensito fino ad adesso per quanto riguarda Nintendo Switch e Switch Lite, ce ne sono alcuni che considero più versatili di altri e che penso che siano nel 2020 la chiave per avere una console completa a 360 gradi, più di quanto non lo siano già entrambe. Sono qui quindi oggi per parlarvi di quelli che considero i 5 accessori più utili e fondamentali per il 2020 su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite. Ci sono anche accessori nuovi che ancora non ho recensito, mentre per tutti gli altri di cui ho già parlato vi lascio in descrizione la playlist con tutti gli accessori che ho recensito fino ad oggi. E sono veramente tanti, ve lo assicuro, però cerco sempre di essere d'aiuto nei vostri confronti. In descrizione vi lascio anche tra l'altro i link per acquistarli, quindi nel caso vi interessino passateli sotto. E siamo pronti per partire dal primissimo accessorio di oggi. Primissimo accessorio di cui tra l'altro non vi ho mai parlato, ovvero una dock alternativa per Nintendo Switch e Switch Lite. Attenzione però, in quest'ultima non vi trasmette il segnale video. Ho sempre esitato a trattare questo argomento perché quando si tratta di Nintendo Switch per quanto riguarda il nucleo principale, quindi dock e alimentatore, io non ho mai consigliato niente di terze parti, soprattutto per l'alimentatore e la dock. Mai, 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 mai. Perché ho paura che si rompano. Ma diciamo che in alcune situazioni ve ne ho recensito alcune che ritenevo interessanti. Perché non proprio delle dock, per esempio quelle famose hub USB-C che trovate su internet, che vanno bene magari per l'iPad, per il PC, per connettere 8000 cose. Ecco alcune trasmettono il segnale. Questa in realtà è proprio una dock, pensata appositamente per Nintendo Switch. E dopo averla utilizzata per mesi, averla recensita su Amazon e diciamo averla spolpata a 360 gradi, ho deciso di non mandarla indietro ad Amazon prima dei 30 giorni, ma di tenerla quindi. Mi sono trovato bene e tra l'altro è estremamente portatile. Ve ne parlo comunque adesso, mentre la apro, perché all'interno c'è questa scatolina, nera molto molto comoda, che grazie alla chiusura magnetica che appunto vedete qua, può essere diciamo portata in giro così, quindi non avete bisogno di eventualmente un'altra custodia. E come vedete la scatolina è molto più piccola della dock ufficiale, che vi ricordo, è solo design. In realtà il chip importante è nella parte posteriore ed è molto più piccolo di quello che sembri. Aprendo la scatola all'interno troviamo delle istruzioni molto semplici, con questo piccolo fogliettino, anche se in realtà non è proprio, diciamo, un'istruzione, semplicemente un reminder di come si usa, un reminder, penso si dica. Ed eccola qui la dock, decisamente piccola, ci sta veramente in tasca. E la cosa più comoda è che questo qua è magnetico, basta semplicemente girarlo, metterlo così e abbiamo letteralmente la nostra dock. Non abbiamo bisogno di altro, se non appunto dei cavi base di Nintendo Switch. È molto comoda perché sì, può essere utilizzata anche con Nintendo Switch Lite e no, non può trasmettere il segnale video, come vi ho detto prima, non potete, ma per avere delle porte extra o per esempio caricarla e nel frattempo utilizzare un Pro Controller o tantissimi altri motivi. Nella parte posteriore di questa dock, come state vedendo adesso, c'è l'ingresso per il cavo USB-C, un'entrata USB e ovviamente il cavo HDMI, oltre che tra l'altro un fantastico bottone per entrare in modalità docked. E come potete intuire è letteralmente tutto quello che ci serve, perché da uno alimentiamo la console e la dock, dall'altro trasmettiamo il segnale video alla TV e dall'altro possiamo collegare eventualmente un cavo USB per avere un controller o caricare il pad o qualsiasi altra motivazione, qualsiasi cosa va bene. E diciamo che rimane molto elegante perché si può chiudere facilmente grazie appunto questa cosa magnetica che se volete potete toglierlo, ma è estremamente utile perché vi fa da stand e ci potete collegare appunto, come dicevo prima, sia Switch che Switch Lite. E in entrambi i casi, se avete delle cover abbastanza sottili, potete utilizzarle comunque. Attenzione però, dovete avere delle cover adatte. Io per esempio nel caso di Nintendo Switch utilizzo una cover talmente sottile che entra anche nella dock ufficiale. Quindi, abbinata, non a un vetro temperato perché è troppo grosso, ma una pellicola protettiva, diciamo che mi permette sempre di proteggere entrambi i lati della console senza rovinarla. E in questo caso diciamo che è la stessa cosa, perché parzialmente la console rimane comunque protetta perché la parte che entra è l'unica che rimane scoperta. Dall'altra parte non c'è bisogno di niente perché comunque tocca soltanto il retro della console. E di Ghoulikit e nella parte posteriore qua vediamo alcuni dettagli importanti per quanto riguarda voltaggio eccetera eccetera. Tra l'altro è gommata ed evita che la cosa slitti. Cosa ottima perché non tutti ci pensano. E al prezzo di circa 30 euro è a mio parere l'alternativa migliore fra tutte le dock sul mercato. Perché guardando il sito del produttore ma soprattutto guardando la pagina Amazon dove l'ho recensito e dove ho letto tutti quanti i dettagli prima di comprarlo sono rimasto felicemente sorpreso dalla qualità appunto del produttore perché comunque non è la prima cosa che fanno a tema Switch. Ma ce ne sono tante altre e un'altra la tratteremo adesso. Ci spostiamo quindi verso il secondo accessorio di cui parliamo oggi ovvero un trasmettitore Bluetooth o connettore Bluetooth possiamo chiamarlo così per collegare le nostre cuffie appunto Bluetooth a Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite. Questo in realtà l'ho già recensito quindi non ci sarebbe gran che da dire potete trovare il video apposito ma farò anche qualche menzione nel video di oggi. Allora prima di tutto ovviamente lo apriamo e vediamo che subito c'è la plasticozza la custodia qua con cui possiamo portarlo a giro anche se francamente non ho mai avuto problema perché essendo talmente piccolo si collega sotto la console e può essere messo dentro la custodia se non è troppo aderente e ci sta, sta tranquillissimo sia Switch Lite che Switch Standard. Fantastico. La cosa fighissima è che si alimenta tramite la console e quindi non ha bisogno di batterie o cose esterne. Lo metti, abbini le cuffie tramite il tasto tenendolo premuto e funziona perfettamente. Funziona con praticamente tutte le cuffie Bluetooth. L'ho provato con headset, airpods, varie, tutto. Funziona tutto bene. E il delay è minimo. C'è un po' perché comunque le cuffie Bluetooth ce l'hanno praticamente sempre ma nell'insieme è abbastanza godibile il tutto. Diciamo che non ti dà quel fastidioso effetto che hai quando magari guardi una serie tv con le cuffie Bluetooth e vedi il labiale che non concide. No, quello no. Come vedete adesso rimane estremamente piccolo ragazzi e quella che vedete sotto è semplicemente una specie di custodia perché in realtà il connettore è semplicemente questo. Tremendamente piccolo, potete metterlo praticamente in ogni tasca. È come se non bastasse. Avete anche questo che vi permette di collegarlo alla dock. Quindi entrate a USB, dall'altra USB-C, lo collegate e siete a posto. Anche in modalità dockhead potrete quindi gioire del non usare appunto il cavo con le cuffie. È una cosa odiosissima. Penso che questi siano gli accessori più interessanti per Switch, questi primi due, perché sono cose che francamente un po' tutti quanti utilizziamo. Tra l'altro la GulliKit ne ha fatto un altro di questi datatori e l'altro ha anche la possibilità di utilizzare il microfono perché questo purtroppo no. Non potete utilizzare il microfono con questo. Soltanto le cuffie. Ma vabbè, diciamo che sono determinate rinunce perché questo costa intorno ai 25-30 euro, mentre l'altro 42, perenza sostanziale. Un altro accessorio di cui vi voglio parlare tra l'altro è il Pro Controller ufficiale di Nintendo Switch, praticamente l'unico controller che utilizzo insieme all'altro della Hori. Con quello di Hori mi trovo meglio per quanto riguarda la dimensione sul lungo periodo, ma per partite al volo va benissimo anche questo qua perché comunque... Cioè vorrei ben dire, quello ufficiale non deve dare mezzo problema e tranquilli, non ne dà. Prezzo circa 60-70 euro, 70 al lancio, 60-55 adesso, lo si trova tranquillamente anche di meno. È il miglior controller ovviamente su Switch, ingresso USB-C, la batteria dura circa 20 ore con due di ricarica, sono due analogici che non sono simmetrici per fortuna, croce direzionale, tasti ABXY, doppio dorsale da una parte e doppio dorsale dall'altra, quindi abbiamo R, L, ZL e ZR e i dorsali non sono a grilletto ma sono semplicemente a bottone. Per alcuni ho un vantaggio, per altri uno svantaggio, dipende dai vostri gusti, io francamente li preferisco così perché non mi piace una corsa troppo prolungata del tasto, mi fa un po' male alle mani alla lunga, però penso che siano fantastici i pro controller, ne ho la bellezza di 4, ce li ho tutti, manca praticamente solo quello di Splatoon, ma vabbè. E diciamo che non lo cambierei per nulla al mondo, va bene anche su Switch Lite, diciamo che se lo accoppiate per esempio a questa dock potete giocare in modalità tavolo, però francamente con una spesa del genere fate prima prendervi il modello Switch Standard, ma vabbè, non entro in merito della cosa. Ovviamente le protezioni, non dimenticatevi mai ragazzi di proteggere le vostre console perché costano circa 300€ a meno che non prendiate il modello Lite, spenderne 10 in più per proteggerla è la base, davvero, è la base. Nel mio caso sul modello Switch Standard utilizzo questa cover della Ugreen, si chiama così, recensita anche questa su Amazon, che protegge perfettamente la console da ogni urto, da ogni graffio sul retro, mentre sul davanti utilizzo una semplicissima pellicola protettiva, quindi neanche il vetro temperato, perché voglio che la console entri all'interno della dock. Mentre per quanto riguarda gli analogici ragazzi, nessun problema, uso i copri analogici di Dragon Ball presi direttamente al GameStop con la sfera a una stella, perché sono un grande fan di Dragon Ball, me lo potete concedere ogni tanto, abbiamo giocato anche Kakarot. E diciamo che va benissimo, non mi trovo affatto male. Dato che comunque non la sto più portando fuori casa, ma comunque la portavo molto fuori casa, adesso il modello light utilizzo prevalentemente quello per le mie escursioni fuori casa. Dico escursioni perché ultimamente sta diventando un topo da biblioteca per quanto sto studiando in casa. Basta, basta. Per il modello light uso semplicemente due cover protettive della Hori, una in realtà non è una cover protettiva, ma è tipo una custodia per portarla in giro, l'altra invece è una cover protettiva di quelle ciccionissime, grigia e dietro è pure trasparente. Ci sta veramente da Dio, è fantastica. Protegge bene la console, non ci sono problemi urti o cose del genere e sul davanti invece utilizzo una pellicola protettiva, ma potete utilizzare anche un vetro temperato perché non deve entrare in nessuna dock, quindi non avete problema di grossezza. La custodia è semplicissima, è della Hori. Nel caso vogliate risparmiare comunque ci sono quei kit da 10-15 euro con custodia, cover in silicone, vetro temperato o pellicola protettiva, quindi spendete poco e proteggete tutto. E logicamente ricordatevi di prendere anche i proteggi analogici se giocate molto spesso determinati giochi con cui sfregate molto perché il sudore si vede. Dalla lunga rovinate il colore della console. Lo so che sembra strano, ma è così. A me non costa nulla, quindi ve lo dico. E chiudiamo in bellezza ovviamente con le microSD, di cui lo stesso non ho mai fatto un video apposito ma arriverà il prima possibile. Vi parlerò sia delle microSD che ho sul modello standard che sul modello Lite. Sul modello standard usavo una memoria da 128 della SanDisk, poi spostata sulla Lite, perché su questa alla fine ho messo una memoria da 256 GB della Lexar, che ho pagato circa a 20€. Mentre quella da 128, tre anni fa, la bellezza è di 28€ mi pare. Sì, 28€. Questa differenza di prezzo è data comunque dalla differenza delle marche, perché la SanDisk ha un nome molto più grande, ha fatto anche collaborazioni con Nintendo, mentre la Lexar rimane una marca un po' più sottotono. Poi diciamo la verità, mi sa che l'Alexar è un po' meno performante. Ma ho visto che dopo svelati mesi di utilizzo non mi sta dando problemi, anche perché l'ho comprata, se non mi ricordo male, prima dell'uscita di Link's Awakening, quindi per dire settembre del 2019. Tutti questi mesi, fino a febbraio 2020 che sto facendo questo video, zero problemi. Va, che è una bellezza. E ho tantissimi giochi installati. Ve lo ricordo perché comunque io gioco prevalentemente in digitale, giochi fisici ne ho pochi. Sulla Lite niente da dire, perché comunque 128 GB sono più che sufficienti. E nulla, mi trovo molto bene con entrambe, tranquillissimo. Ma ovviamente con tutti gli accessori che ho sentito fino ad adesso, anche quelli che magari sono nella playlist e non nel video di oggi. È stato divertente fare questo video. Non ho avuto copione e ci sono andato serenissimo, perché ho talmente tanto spesso sotto mano queste cose che ormai so quasi a memoria cosa dire alle persone che non conoscono questi oggetti. Arriverà sicuramente in futuro una recensione più approfondita della dock, quindi non preoccupatevi, soprattutto delle microSD. E tra l'altro vi devo parlare anche di che cosa ho all'interno di Switch Lite, perché non vi ho fatto ancora il video su quell'oggetto. In descrizione vi ricordo che vi lascio tutti i link per acquistare questi oggetti, logicamente anche la playlist di tutti quanti gli accessori che ho recensito. E devo pensare dove mettere questo video, se nella playlist degli accessori o delle top 5. Ci penserò strada facendo. Detto ciò ragazzi, io vi ringrazio infinitamente della visione e vi aspetto prossimamente in un nuovo video qua sul mio canale. Non mancate assolutamente. Trovate ovviamente in descrizione tutti anche i socials che sono importanti e logicamente lì faccio tutte quante le cose più fighe per quanto riguarda il darvi informazioni al volo. Insomma, le cose migliori sono lì. Seguitemi, non ve ne pentirete. E detto ciò, possiamo concludere qua il video. Alla prossima ragazzi. Grazie a tutti.